A sopporto Augusta e Union Ports Maritime Cluster salutano il comandante Catino. Nell'augurarle i migliori risultati per il nuovo incarico, siamo certi che porterà sempre nel suo cuore un po' di Augusta. Dirlo sono i presidenti delle due associazioni portuali megaresi, Marina Noè per A sopporto Augusta e Davide Fazio per l'Union Ports Maritime Cluster che a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia non potranno oggi essere presenti alla cerimonia di avvicinamento alla guida della Capitania di Porto di Augusta tra il comandante uscente, Capitano di Vascello Antonio Catino e l'entrante Capitano di Vascello Michele Maltese. Gli operatori portuali di Augusta intendono così ricambiare i sentimenti di riconoscenza espressi dal comandante Catino in una lettera a loro inviata ricordando la leale collaborazione che si è instaurata in questi anni con la Capitania di Porto per il raggiungimento di obiettivi comuni e il massimo sforzo profuso sempre per individuare le soluzioni alle problematiche che via via si sono presentate nel mondo della portualità. Il comandante Catino assicuriamo che continueremo a fare sistema come operatori e nell'interesse generale della portualità non smetteremo mai di lottare per la salvaguardia degli interessi del porto di Augusta. Siamo pronti ad affrontare le sfide future che arriveranno e non faremo mancare mai il nostro supporto a chi come lei ha voluto e potuto fare un po' di strada insieme a noi. Aggiungono Noè e Fazio che si dicono certi che questa collaborazione proficua potrà continuare ad esistere anche con il nuovo comandante maltese a cui gli operatori tutti rivolgono il loro benvenuto e migliori auguri per il suo nuovo prestigioso incarico che da oggi assumerà.